Voi lo conoscete l'urlo di Munch? Per chi non lo conoscesse è un disegno fatto da Munch, che era un norvegese. Questo dipinto viene considerato il terzo quadro più famoso del mondo e io, come al solito, ho provato a ridisegnarlo. Eccola qua, la mia opera. Si somigliano molto, se guardate bene. L'unica cosa è questo piccolo arcobaleno di colori, perché, guardate, è un pochino difficile da ritratteggiare, però posso dire di essere soddisfatto. Il disegno mi è veramente piaciuto tanto. Se volete altri disegni, ditemelo e ne farò altri. Ciao e al prossimo video!